Il Comitato Spezia Vivi il Centro si sta impegnando tantissimo per fare in modo che queste feste di Natale siano davvero particolari. Che cosa state organizzando e quali sono alcuni di questi appuntamenti? Gli appuntamenti sono stati diversi, abbiamo già fatto il 13 e la carrozza con i cavalli e a grande richiesta sarà ripetuta il giorno 24. Abbiamo fatto degli accordi col Museo LIA, farà un museo da favola, sono laboratori ludico creativi, i giorni del 22, il 24, il 29, il 30 per i bambini diciamo dai 4 ai 12 anni, dalle 16 e 30 alle 18 con un prezzo di 3,50 euro naturalmente e poi il 24 appunto la carrozza. Ecco ma non è l'unica particolarità di questa giornata perché la danza entrerà a tutti gli effetti dentro i negozi? Sì, il 23 di questo mese appunto dicembre festeggeremo in questo modo un po' particolare, è un evento diciamo un po' nuovo che stiamo cercando di proporre e noi come scuola di danza con il centro Dancing Project stiamo collaborando appunto con i commercianti del centro storico per creare questa iniziativa. Quindi avremo dei manichini viventi che partiranno da dentro o comunque dalle entrate dei negozi, saranno tematici sul tipo di negozio dove si trovano e poi si incontreranno tutti in centro strada per poter ballare e quindi aprire delle danze che si possono estendere anche alle altre persone, ai passanti. Quindi cercheremo comunque di coinvolgere tutti e riuscire a rendere il centro una festa. Ecco che cosa renderà ancora più speciale questo 23 dicembre? Allora il 23 dicembre avremo Babbo Natale con i suoi Elfi Ballerini sponsorizzati dalla Motor Center che ci presterà appunto il mezzo per poter girare per il centro storico con i ballerini al seguito, farà varie tappe nella città per cercare di attirare più gente possibile e praticamente di addolcire un pochino di più questo Natale.